Allora, tu dovresti vedere se tu hai fatto la nuova e tu hai cazzato? Perché non mi cazzi, Piero? Mi sembra che la barca di Luigi ha il chiocco troppo aperto Troppo? Troppo aperto, cioè gli hai dato troppo amantiglio Il problema è che siccome non sai che cos'è l'amantiglio, come fai a correggere? E' uno che ama molto Esatto